Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Come vedete oggi sono nel mio pink mood, quindi sopportatemi. E sono qua per girare il video dei preferiti del mese. Oggi facciamo i preferiti di marzo, ho saltato quello di febbraio per mancanza di tempo. Sapete che questo è un video che c'è sempre, ma a volte ci sono anche degli strafalcioni. Quindi io direi di iniziare subito dalle canzoni del mese. La prima è di Bibi Rexha, si chiama Mean to Be e vi scriverò tutti i titoli qua sotto per farmi perdonare. Mi piace un sacco perché ha tipo un sound mezzo country. Quindi adoro. Altra canzone è del film L'ultimo, di 50 sommature. Ed è di Hailey Steinfeld. Ve la nomino praticamente un mese sì, un mese no, perché sforna delle canzoni una più bella dell'altra. All'inizio quando ho sentito questa canzone non mi piaceva. Non so il motivo. Però poi riascoltandola, riascoltandola, riascoltandola fino allo svenimento. Ho detto basta, è fantastica. Questa canzone merita anche solo per il video perché è strafigo e in più è girato a Parigi, quindi ciao. Altra canzone è uscita da un po' ma io come sempre arrivo per ultima. Ed è di Zed, Maren Morris e Grey. L'ho buttata così in inglese. The Middle. Questa canzone mi è entrata nel cervello. Secondo me ci hanno messo qualche suono che crea dipendenza perché altrimenti è impossibile. E poi continua così per tutto il ritornello ma è meravigliosa. Altro punto, film barra telefilm del mese. Allora qui devo recuperare un po'. Sicuramente ve ne dico anche qualcuno di febbraio così appunto ci partiamo avanti. Anche perché ok che non ho tempo ma per i film e le serie qualcosa trovo sempre. Anche se le serie le ho un po' tralasciate. Sto riprendendo ultimamente perché ho meno roba da fare. Per quanto riguarda i film, da quale inizio questa è la domanda? Ho visto Black Panther che è l'ultimo della Marvel che è uscito. Che poi riprenderà anche l'ultimo film degli Avengers che sto aspettando. Non vedo l'ora. Mi è piaciuto. Sicuramente mi aspettavo di meglio. Ultimamente non c'è nessun film che mi stia prendendo proprio da dire un mio dio. Ce n'è uno però che vi indicherò nel mese prossimo perché l'ho visto qua ad aprile. Quindi non ve lo posso dire. Però appunto Black Panther. Poi abbiamo The Shape of Water. Pazzesco, pazzesco. Se vi piacciono le storie con un fondo romantico, anche leggermente science, vedetelo. È un po' particolare, nel senso che non è la classica storia romantica. Non vi aspettate quello. Però mi è piaciuto molto. Poi ho visto Ruby Red che è una trilogia. Sì, ce ne sono tre. Ed è Ruby Red, Ruby Red e il segreto di Zaffiro. E poi c'è Ruby Red e il verde smeraldo. Carino, leggero, teenager. Poi ho visto Red Sparrow. Allora, questo mi è piaciuto molto. È molto crudo come genere di film. Quindi se non avete lo stomaco forte, ma in generale, non perché si vedono scene splatter, ma proprio come argomentazioni, vi consiglio anche no. Io sono andata a vederlo da sola perché questo è un film appunto pesantino. Quindi volevo capirlo bene. Ne ho parlato anche con i miei, anche con delle mie amiche, i miei amici che sono andate a vederlo. E non tutti sono arrivati nel profondo del film. Cioè, non è soltanto lei che fa questo tipo di lavoro. Ma c'è molto di più. Però se adesso vi metto a spiegare, qua vi spoilerò tutto. Quindi se lo avete capito, fatemelo sapere nei commenti. Voglio capire cosa avete capito di questo film. Perché magari ci sono anche più di un'interpretazione. Poi ho visto Crazy Night, festa col morto. Raga, pazzesco. Straconsiglio se avete una serata con le amiche e volete vedere una cosettina leggera per ridere. Poi ho visto Alla ricerca di Dory. Non l'avevo visto. Cioè, ho visto Alla ricerca di Nemo, ma non Alla ricerca di Dory. Dieci anni dopo, quanto tempo è passato, non lo so. Strabello mi è piaciuto un sacco. Non mi ha preso da subito. Cioè, all'inizio ero tipo un po' disorientata. Però è carino. Cioè, e dai, su. È il continuo della ricerca di Nemo, era da vedere per forza. E ultimo, se no poi quasi non finiamo più, ho visto Pompei. Pompei è un film in realtà che è uscito quattro anni fa, nel 2014. E mi è stato consigliato da voi, perché io adoro questo genere di film. Con un fondo storico, storie d'amore. E questo qui parla appunto di Pompei, non ve lo dire. Però contiene anche questa storia d'amore. Molto bella, devo dire, ha fatto bene. Poi, vabbè raga, che volevo di caffà come attore c'è Kit Harington, che interpreta Jon Snow in Game of Thrones. Non so, quindi io appena l'ho visto ho detto, no, aspetta, devo vederlo. Poi alla fine del film, non so se capita anche a voi, mi sono ricordata di averlo già visto. Però chissà quanto tempo fa neanche me lo ricordavo. Però alla fine me la ricordavo, quindi ho dato tipo un flashback. Vabbè, però è bello lo stesso. Per quanto riguarda invece i telefilm, diciamo che non ne ho iniziati di nuovi. Questo è poco ma sicuro. Ho continuato a vedere Once Upon a Time, quella che stava continuando un po' più frequentemente di settimana in settimana. Ho ricominciato a vedere DC Legends of Tomorrow perché l'avevo accantonato. Io sapete l'ho iniziato intorno a inizio appunto del 2018. Avevo visto la prima stagione, non avevo visto la seconda. Quindi ho iniziato la seconda, sto più o meno a metà. E poi, cosa più importante, me la stavo per scordare, è ricominciato, e io ho anche già finito, la seconda stagione è di Santa Clarita Diet. È una serie che fanno su Netflix, quindi se siete abbonati a Netflix approfittatene perché è una serie geniale, fuori dal normale, molto particolare, e allo stesso tempo anche molto comica, molto ironica. È molto leggera, tranquillissima, potete guardarla. Non fa impressione per niente, anche se tratta argomenti un po' particolari. Ripeto, non so che altro oggettivo trovare. Quindi vedetela assolutamente. Poi fatemi sapere. Poi, scarpe del mese. Qui è ardua la scelta, perché ne ho usate un paio, nello specifico, ma anche un altro. Quindi che faccio? Facciamo che vi faccio vedere il paio 1, che sono queste qui, sono le Stan Smith Bold, quindi con il doppio fondo più alto di quelle normali, e sono quelle Rose Gold. Mi piacciono un sacco perché vanno su un sacco di outfit diversi. Sono stracomode, essendo che hanno questo fondo un po' più alto, non fanno male dopo un po'. E queste sono un acquisto recente, ma che ho subito messo tantissimo. Lo so, sembra che io abbia una fettona, ma effettivamente ce l'ho, perché porto il 40. E con le Vans sembra sempre che c'ho il 49, però va bene. Questo modello lo volevo da una vita, ed è l'old school. Io l'ho anche in versione bassa, che praticamente non ha questa parte sopra. Se avessi un piedino un po' più da fatina sarebbe anche fashion blogger style, però ci teniamo sta pagnotta. Io dico sempre, il piede è l'unica parte che non puoi controllare. Anche le mani, forse. Per quanto riguarda le unghie, invece, avete saltato quelle dello scorso mese, ma se andate sulla mia pagina Instagram, ve le pubblico mensilmente. Questo mese, invece, mi ritrovo così. Le ho accorciate, ho fatto questa forma, che è una mandorla abbastanza basic, abbastanza piccolina e cortina. E poi, su questa mano, solo su una mano destra, ho fatto questa rosellina stilizzata in bianco. Ho fatto questo perché, utilizzando tanti prodotti per effetti speciali, se le avessi fatte chiare, come il mese scorso, alla fine me le sono ritrovate tutte macchiate. Poi le ho dovute accorciare, perché altrimenti non riesco a fare tutte le cosettine, essere bene precisa. Non che mi diano fastidio, ma è proprio una questione pratica. Prodotto beauty del mese. Qui ne abbiamo un po'. Devo dire che, però, allo stesso tempo, non è che io mi sia truccata tantissimo. Mi trucco per girare i video, o lì in Accademia mi truccano e mi struccano. Però, essendomi truccata poco, sono andata sui miei soliti must have, che vi ripeto. Fondotinta. Fenty Beauty di Rihanna. Il fondotinta è il Profilter, e io utilizzo il colore 140. Adesso uscirà la linea. Anzi, domani uscirà la linea. Oggi è 5, domani è 6, quindi pronti tutti da Sephora. Sono molto contenta perché potrò finalmente ricomprarlo senza pagare i 10 euro di spesa e di spedizione. E se volete provare un fondotinta valido per pelli miste e grasse, questo è il fondotinta, anzi, sarà il fondotinta della vostra vita. Provare per credere, io mi sono trovata benissimo da subito. È uno di quei fondotinta che io potrei anche non fissare e io ho la pelle mista. Altro prodotto must have che ho ritrovato in questi giorni è questo correttore qui, l'anti-aging di Maybelline. Io utilizzo la colorazione light. Purtroppo questo correttore, l'unico difetto che ha è che finisce subito. Ce l'ho, vabbè, un mese e mezzo e è quasi finito. Costa pochino, eh, perché è sotto i 10 euro. È assurdo, è pazzesco. Questo anche se non mettete il fondotinta, avete una pelle che può permettersi il non fondotinta. bellissimo, tutto il giorno sta lì, lo fissate. Bello, bello, bello. Non lo compravo da un po' e mi ero scordata quanto mi mancasse. Ultimo prodotto è questo, ed è un eyeliner. Anche questo l'ho rivalutato ultimamente perché lo tengo qui nella cassettierina vicino alla scrivania, quindi quando devo fare un trucco così veloce, ce l'ho lì da prendere, però ultimamente lo stavo intercambiando con quello di NYX. Invece, questo qui che è lo sketch marker, ve lo faccio vedere un po' da vicino. Ha una puntina così in velcro, bella inzuppata, bella potente, ed è quello che ho su oggi, che non so se riuscirete a vedere bene. È un eyeliner fantastico perché permette di fare sia linee sottili, sia linee grosse. Io oggi sono andata in questo bold liner, però potete anche fare un look tranquillamente, sottile, sottile, scorre che è una meraviglia. Poi passiamo alle cover del mese. Non so se ve l'ho fatta vedere, ma mi sono arrivate queste di Go Case, che ho messo tutte e due in maniera appunto intercambiata, perché sono a tema make-up, quindi ci stavano tutte. E poi ho anche messo questa qui, che mi hanno dato l'evento di Mulac, al Temporary Shop, con scritto Slay, che è il nuovo fondotinta. E qui sotto c'è il loghino di Mulac, la scritta Ila Makeup02, tutte cover che ci hanno regalato personalizzate, quindi sono stra belle. E ho cambiato un po' queste tre. Per quanto riguarda la foto del mese, qui c'è da lavorare per scegliere, perché ne sono uscite di carine. Però penso che vi metterò proprio quella che ho scattato all'evento di Mulac il 15 di marzo. Ve la metto adesso qui. Mi piaceva tantissimo questo sfondo, è piaciuto tantissimo anche a voi, tantissimo a tutte le persone che erano all'evento, perché era una cosa molto particolare, molto vintage. Ringrazio Martina Smiley qui su YouTube per la foto, e quindi come posso non metterla? Fa parte del mio cuoricino ormai. Per quanto riguarda gli eventi, adesso leggiamo tutto come sempre sul calendario del telefono. Allora, il 7 di marzo sono andata a fare il filler alle labbra. Più avanti vi parlerò di questa cosa, perché come vedete in realtà non è che l'effetto si veda molto, ed è passato meno di un mese. Il 13 c'è stata la prova del mio esame di face painting, e il 14 invece c'è stato l'esame vero e proprio, che è stato il primo dell'accademia, quindi insomma è una cosa un po' special. Il 15 appunto c'è stato l'evento a Bologna, dell'apertura del temporary shop, che tra l'altro è ancora aperto, quindi se passate di là fateci un salto, perché potete comprare anche i fondi nuovi, che molto presto arriveranno anche a me, la cipra, la spugnetta, l'olietto. Il 19 sono andata a farmi le unghie, e già mi sono cresciuti da morire, vabbè. Per quanto riguarda l'app del mese, devo dire che anche qui sono molto combattuta, uso sempre le stesse sostanzialmente, però forse ho una novità per voi, questo mese è un'applicazione, forse alcuni di voi la troveranno un po' sciocca, però io sono fissata con i passi giornalieri, non mi sono mai comprata un contapassi, quelli che si mettono tipo orologio, perché mi sembra un po', non lo so, una cosa strana, però sul telefono me li conto e me li conto da Dio. Non uso l'app Salute, quella che c'è già preimpostata, uso un'altra che secondo me è molto meglio, si chiama Steps, è anche molto più intuitiva. Ed è questa qui, come vedete vi conta i passi giornalmente, voi potete anche mettere tipo una sorta di obiettivo giornaliero, oggi vabbè ne ho fatti pochi, due chilometri e due, vi dice le calorie, vi dice i passi, e qui le colonnine come vedete, qui che avevo camminato un po' di più, vedete, vi diventa verde perché avete superato, anzi avevo superato l'obiettivo giornaliero. Io sono fissata con questa cosa dei passi, soprattutto quando vado in vacanza e camminiamo tanto, ma per dire tanto, tipo che arriviamo a 15-16 chilometri, tipo morti. Mi piace no? Vedere quanto abbiamo fatto, quanto abbiamo camminato, e poi a seconda delle calorie, magnammo. Quindi spero di avervi fatto conoscere questa nuova cosa anche a voi, e spero questo video vi sia utile come sempre, io mi diverto un sacco a girarlo ogni volta. Quindi, come sempre, domandina di questi video è, se avete qualcosa da consigliare voi a me, che sia applicazione, trucchi, prodotti, qualsiasi cosa che vi viene in mente, scrivetemi tutto qua sotto, che io sono sempre stracuriosissima. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollicino e iscrivetevi se ancora non lo siete. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!